Sì, è stata una bella conferenza e penso che siamo nel momento giusto per fare un passettino più avanti. L'ho detto anche ieri nel mio intervento. Dobbiamo essere pronti affinché l'Europa davvero possa rappresentare un punto di riferimento per tutti i cittadini. La pandemia ha dimostrato finalmente che il principio di solidarietà richiamato nei trattati è stato applicato. Si è data maggiore enfasi alle attività nel campo sanitario con Next Generation EU. Finalmente c'è una condivisione anche delle progettualità. Siamo sulla buona strada. Dobbiamo fare qualche passettino in più e questo passettino in più va individuato soprattutto nella infrastruttura istituzionale dell'Unione Europea. Va dato a mio avviso maggiore potere anche al Parlamento Europeo con il potere di iniziativa legislativa. Ma soprattutto la politica fiscale deve essere condivisa a livello europeo. Ci deve essere una maggiore condivisione sulla politica estera che non può continuare ad essere solo una enunciazione di buoni principi.